e registro su questo computer prego allora ciao a tutti non so se ci sono e oggi parliamo di headless cms e nel dettaglio parliamo di strapi non ci sono molte slide giusto per la presentazione che cos'è un headless cms e poi faremo tutta diciamo demo pratica su un'installazione installazione con docker quindi io nel mio pc non ho installato no.js che strapi è no.js e una piccola panoramica e poi una demo su come creare i dati o diciamo una pagina come se fosse un blog dunque per chi non mi conosce io sono Giuseppe Morelli e sono uno sviluppatore back end principalmente per e-commerce di base utilizzo il php ma già da un po' ho iniziato a studiare no.js, javascript e diciamo per divertimento o per necessità faccio anche il devops non è la mia attività principale ma diciamo che mi diverte per eventuali informazioni qui trovate il link al mio sito oppure mi trovate sui social su insomma tutti i contatti mi trovate sul sito generalmente di cosa questa è la scaletta diciamo di questa sera nelle slide vedremo solo che cos'è un headless cms questa è solo una diciamo la scaletta di ciò che farò vedere nella demo che cos'è un headless cms? qui ho messo la citazione di wikipedia di base per headless cms si intende la sola parte back end che gestisce i dati quindi è un cms che salva i dati in un database che può essere di qualsiasi tipo e li espone tramite API quindi non ha un suo sistema di templating ma i dati che salviamo possono essere reperiti solo tramite API che solitamente sono o REST o GraphQL o tutte e due vi faccio vedere un'immagine così magari è più chiara i cms classici tipo WordPress o Drupal cosa hanno? hanno sia il back end che il front end nella stessa diciamo nello stesso chiamiamolo codice mentre l'headless fa gestisce solo la sola parte back end questo verde sia l'headless che il cms classico si collegano a un database che può essere di qualsiasi tipo ora magari WordPress ha solo MySQL Strapi ne ha un po' di più un headless cms per avere diciamo una parte una parte grafica si deve agganciare a un front end solitamente diciamo chiamiamola di ultima generazione quindi Vue.js, Next.js, Gatsby, Cazby adesso non la pronuncio esatta purtroppo non la so e oggi noi andremo a vedere questa parte qua questa parte verde e nel dettaglio Strapi perché Strapi? Perché è open source quindi possiamo anche eventualmente modificarlo vedere come funziona nel dettaglio di headless cms ci ne sono anche altri i più famosi sono Contentful e Prismic come SAS un'alternativa a Strapi si chiama Directus Directus era prima in PHP è stato fatto il porting a No.js a fine 2020 come slide vi dico rimane adesso la scaletta ma partiamo subito con la demo allora prima di tutto tutte le demo, cioè la demo di oggi la farò vedere con No.js che gira in un container Docker per chi non sa come funziona Docker magari può essere un po' più difficile capirlo cercherò di essere il più chiaro possibile immaginate Docker come se fosse una piccola macchina virtuale che gira nel vostro computer detta detta proprio in modo iper semplice allora come si organizza un progetto diciamo di qualsiasi tipo con Docker perlomeno come lo organizzo io io mi sono fatto un sistema che ho chiamato Docker DevBox che non è nient'altro che un Docker Compose con degli script associati adesso vi faccio vedere praticamente in questo file in questo sistema in questo file ho messo tutti i container i servizi che mi servono per un progetto o No.js o PHP in base al tipo di progetto che devo fare decommento la sezione che mi serve esempio stasera facciamo No.js mi serve il servizio No.js quindi io ti commento questa parte c'è diciamo una miriade di modi per fare questa cosa qui tramite Docker Docker Compose aiuta perché ovviamente invece di scrivere tutto nella riga di comando hai già puoi configurare diciamo tramite file e oltretutto si può si possono gestire le variabili tramite i file env poi magari se questa cosa vediamo che interessa possiamo fare anche un altro tool specifico solo per Docker oggi mi volevo focalizzare più su strabi funzionamento e demo effettiva quindi nell'em file qua nella mia macchina praticamente c'è di tutto fra PHP e No.js a noi ci serve solo la versione Docker di Node che è la 14 il nome progetto project host name questo è il nome che diamo al Docker Compose questo è il nome del progetto se per caso abbiamo web serve poi le altre cose che devo configurare è il percorso dove far partire la working deal dove di fatto quando lancio il comando di Docker da quale cartella deve mappare cioè quale cartella deve mappare il proprio pc dentro il container questa è una mia impostazione per avere un altro volume montato altra cosa importante questa demo su Windows non funziona sicuro perché i percorsi sono diciamo stile per Linux su Mac funziona o perlomeno dovrebbe funzionare ma le performance sono molto molto basse quindi questa cosa qui funziona solo principalmente con Linux con Mac tentenna un po' secondo me quindi detto ciò configuriamo i percorsi poi qui ci sono anche le altre variabili d'ambiente che magari adesso non ci servono io configuro i container servizi chiamiamoli di docker tramite un ip specifico quindi non lascio la scelta a docker ma gli dico io il range d'ip così in modo tale che se voglio puntare a uno specifico servizio ho già l'ip fisso se no se non faccio questo lui me lo dava diciamo in modo dinamico tipo di hcp allora dunque questo l'ho fatto questo ok andiamo nella cartella dove si trova il docker compose per avviare per far girare diciamo avviare il comando ad esempio npm mi sono creato degli script bash non so nient'altro che dei shopcat per eseguire il docker compose run con l'utente node il comando questo è il nome servizio questo qua il comando e i parametri che gli prendo da qui quindi se io scrivo bin nodejs scrivo anzi voglio fare npm npm install lui esegue il comando npm install dentro il container in questa cartella qua andiamo a vedere come si installa strapi dalla loro guida installazione è veramente molto molto semplice la riga di comando documentazione è veramente ottima ah ok l'installazione la vuole con yarn non è un problema perché ho creato anche quello yarn se vogliamo vedere nel dettaglio il bin yarn ah mettiamo presentation mode così magari lo leggete meglio ok ah con lo sharing screen purtroppo non mi fa vedere tutto insieme quindi ci saranno un po' di switch non mi fa vedere la barra laterale comunque per yarn è la stessa cosa perché il container docker di node di node.js contiene sia npm che yarn quindi il comando è questo qua ok andiamo a vedere allora vi spiego un po' la sintassi dunque c'è il create strapi app per chi arriva dal composer tipo create project il nome della cartella in questo caso vi dico strapi demo quick start è un'impostazione per configurare strapi in modo tale che il database sia sql lite di default ora quando lancio questo comando molti dicono sì ma dove dove cavolo me la crea questa cosa allora io ho fatto questo mapping fra il pc e il container docker quindi questa variabile qui che è la root del progetto ecco qua adesso mettiamo questa variabile qui l'ho impostata come la cartella principale questa qua sopra che lo mappa qui quindi quando io eseguo qualsiasi comando bin qua dentro lui lo mappa qua dentro cioè lo mappa in home node project quindi qualsiasi cosa che eseguo con il bin lui me lo riporterà a questo livello qua dove ho scritto demostrati tempo ecco che adesso finisce l'installazione vedrete che a questo a questo livello ecco demostrati si creerà il progetto una volta terminato adesso lui ovviamente nella prima installazione default mette tutte le variabili d'ambiente classiche quindi localhost localhost in un container docker non va bene perché perché di fatto è come se fosse una macchina esterna tu non puoi utilizzare il localhost perché dovresti va un po' in lupo adesso non saprei come spiegarlo nel dettaglio immaginate che il container è come se fosse un'altra macchina se fai partire un servizio dentro un container con localhost non lo puoi vedere dall'esterno lo puoi vedere solo dentro il container vi dico già che strapia anche lui le variabili d'ambiente che possiamo iniziare a configurare molto molto semplici una è la porta che solitamente sono sopra la 1024 sotto le 1024 si chiamano porte root quindi solitamente non dovrebbero essere usate da un utente diciamo senza privilegi sopra è considerato come porte da poter utilizzare anche da un utente normale il motivo questo purtroppo non lo so è solo una spiegazione che ho trovato diciamo in giro per l'internet detto ciò io col fatto che mi sono configurato le macchine i container docker con gli IP fissi mi dico la porta mi sta bene l'host voglio questo qua andiamo a vedere se è terminato non ancora la cosa che fa è ok prendere le dipendenze e al primo avvio compila webpack per interfaccia grafica e poi basta e poi purtroppo ci vuole un po', intanto vediamo un attimo lo step successivo, il node è molto più semplice perché di fatto non serve un servizio come Nginx o Apache, è un po' più come quando lanciamo il web server di Symfony o di Laravel che si lancia dalla console col php, infatti loro hanno o yarn develop o npm run develop, questa roba qua, cioè questi comandi, non è che sono scritti così, di fatto li ritroviamo nel package json, che sono questi qua, quando c'è npm run develop parte questa roba qua, che è l'alias di strapi develop, ok, ah l'ha già letto, quindi siamo a posto, adesso lo chiudo un attimo, allora, inizializzo un repository git così vediamo dopo, quando creiamo i dati vi faccio vedere che scriverà dei file per l'API, ora, torniamo al discorso Docker Compose, come faccio a far partire, anzi, la cosa importante adesso da vedere è, io per far installare, cioè per installare, questa è la prima volta, ho impostato come percorso la route del progetto, adesso ogni comando che devo seguire, la devo seguire dentro strapi demo, quindi quando andrò a seguire, ad esempio, bin npm, lui me la segue direttamente qua, quindi se io gli dico npm run develop, lui si mette nella cartella dove sta strapi demo e lancia il comando, ok, copriamo il link, la prima volta vi chiederà, vabbè, creare un utente, e questo è come si presenta strapi alla prima installazione, allora, come è strutturato? ci sono le collection che sono i, chiamiamole tabelle, tabelle, perché il mapping è più che altro con modello ER, quindi sono con delle tabelle, di base c'è una collection di default che è quella degli utenti, quella degli utenti proprio con i permessi eccetera, tranne il primo che ha creato che è il, diciamo, il super admin, e qui, vedete, qui si creano tutte le tipologie di collection, cioè tutti i dati che andremo a, i tipi di dati che andremo a creare, poi c'è la sezione dove creare queste collection, che sono di vari tipi, poi lo vediamo, la sezione degli asset, quindi i file e video, video non l'ho provato, quindi non so dire adesso con certezza come funzionano, però le immagini vengono salvate, ci sono tutti i link anche pubblici, poi hanno creato una sezione dei plugin, al momento è un po' scarna, però, diciamo, è in forte crescita, qui sono i plugin installati, qui c'è il marketplace, dove eventualmente li possiamo installare, e poi le impostazioni, ora, di tutte le impostazioni, adesso non voglio fare, diciamo, la modalità noiosa, vi dico solo che è possibile gestire l'API per singola collection, cioè le autorizzazioni dell'API per singola collection, quindi, se io creo una tabella, diciamo, o una collection che chiameremo dopo post, e gli voglio dire che l'accesso è solo per determinati utenti, con un utente password, lo posso fare, oppure poi vedremo, cioè gli posso dire, ok, dai un accesso pubblico a tutti, qualsiasi sia il tipo di dato. Ora, riprendo un attimo un modello di dato che me l'avevo già preparato, perché così facciamo, andiamo a colpo sicuro. Allora, tre tipologie di contenuti, il primo si chiama collection classiche, e le possiamo paragonare, come dicevo prima, delle tabelle, con dei campi, il secondo si chiama collection single type, questa è più come una tabella a singola riga, perché hanno creato questo sistema qui? perché può capitare che a noi ci servono, tipo, delle impostazioni, e quindi, quando andremo a richiamare questo tipo di API, restituisce un array con dei valori singoli, ma è tipo un array a un solo valore, non restituisce una tabella con n righe, è una tabella con una sola riga. È l'utilizzo che ne fanno più per i settaggi, i settings. Poi ci sono componenti, le componenti sono delle parti riutilizzabili sia nelle collection singole che nelle collection classiche. Ora, l'esempio che voglio fare adesso è una pagina di un blog, un blog post. Quindi, partiamo da a creare una collection che chiameremo post. che campi ci mettiamo? Sicuramente il titolo, che è un campo di testo, diciamo, long text è tipo il contenuto, tipo il body, HTML, quindi, non è limitato a, non so adesso, quanti sono i caratteri specifici, magari, 500, 200, adesso non lo so, non mi ricordo. Per long text è considerato il testo, quando vogliamo fare il contenuto, quello rich snippet, per intenderci. Va bene, il titolo comunque è considerato short. poi, possiamo mettere metatitle, anche qui sempre il testo, meta description, la description, la description, ok, per esempio possiamo mettere la url canonical, perché non metto il campo rich text, rich text sarebbe il campo testo, long, con l'editor visivo, quello con, quello classico, per mettere il grassetto, le liste, eccetera. Perché non metto questo? Perché il, il testo di una pagina, lo voglio fare, dinamico, a più blocchi. Adesso vi faccio vedere. Allora, fatta questa cosa qua, salviamo. Questa cosa qui, che cos'è? Quando io clicco salva, lui riavvia il Node.js, perché? Perché scrive dei file, sotto API. Di fatto, vedete il rosso perché sono file nuovi, di fatto lui scrive un JSON dove mi fa tutte le rotte per l'API, quindi, get tutti i valori, get contali, il singolo tramite ID, crea, aggiorna, post, put, e delete. Tutto il resto, sia controller, model, e service, sono parti dove io posso intervenire per personalizzare sia la response, sia il salvataggio. Ora, fino a questo livello non sono arrivato nello studio, non so, adesso, oggi non posso darvi proprio uno schema preciso, però, vi posso dire che, in generale, il controller è per gestire la return, il model è per gestire i campi, e il service è per gestire i comportamenti, cioè, che succede prima del salvataggio, dopo il salvataggio, eccetera. Ora, questi sono campi fissi, vi faccio vedere, ad esempio, per fare il body della pagina, creiamo un componente, un componente che io lo chiamo block, che sono i blocchi delle pagine, lo raggruppiamo per page, questa cosa, questo qui vuole mettere un'icona e è obbligatoria, va bene, io ne prendo una a caso, questa non so perché la vuole obbligatoria, ok, questo componente che cosa ha? Ha un rich text, che chiamo body, eventualmente possiamo mettere un campo di testo con una classe CSS, perché magari per ogni blocco io voglio fare tipo un div, quando lo andrò a renderizzare nel frontend, magari voglio mettere delle classi CSS io da, diciamo, editore, salvo, torniamo alla collection dei post e gli dico aggiungi un altro campo, qui ci sono due parti, una è component e una è dynamic zone, adesso vi faccio vedere la dynamic zone, che vi dico content o body content, usa un componente esistente se gli dico prendimi ora qua non si vede ecco qua prendimi il componente block salviamo per farvi capire che cos'è questa dynamic zone io adesso andrò a creare un dato vero e proprio quindi gli dico primo blog post metatitle blog post meta canonical posso scrivere primo blog post magari posso ne posso mettere un altro che è la url key salviamo questa parte qua con il più è quel campo che ho messo dynamic zone e gli dico ok insegniamo il blocco questo è il primo blocco magari se voglio mettere la classica questo tanto adesso non c'è il frontend ad oggi non posso usare o meno posso scrivere o meno scusate voglio aggiungere un altro blocco perché altrimenti se ne mettiamo un campo fisso non non possiamo dividerlo in più parti oppure diventerebbe molto più scomodo fare un design con un solo blocco anche perché l'editor è abbastanza limitato o se no dovremmo mettere noi a mano tutto l'html e non si può più riordinare dovremmo fare sempre seleziona sposta seleziona sposta questa cosa di fare più blocchettini piccoli rende molto più semplice l'inserimento dei contenuti questo è il secondo blocco niente classe ok salviamo la cosa bella della dynamic zone è che io le posso spostare questo è il primo blocco scrivo 1 magari questo lo metto in h1 adesso qui c'è il preview ok se faccio con la freccetta me l'inverto quindi io posso scegliere l'ordine torniamo un attimo qua e ad esempio io nella pagina del blog voglio mettere i tag come si tag come faccio crea un altro componente che chiamo tags e gli dico vabbè può essere utilizzato da più parti i tag magari non solo nelle pagine ci può servire anche altre cose anche altri posti un'icona perché è obbligatorio e gli dico per i tag mi serve solo un campo che è il tag name e salvo torno il mio post e gli dico ok aggiungi aggiungi il componente esistente questo componente è da solo oppure può essere ripetuto più volte i tag possono essere più di uno quindi il componente sarà ripetitivo la traduzione può esserci più volte e qui ci dico post tag gli dico nella collection post voglio inserire i tag del singolo post poi faremo magari i tag per delle categorie selezioniamo il componente tag post tag ok aggiungiamo un altro componente e gli dico categorie tag ad esempio tag scolesse ok e salviamo adesso magari vado un po' veloce comunque poi c'è la registrazione così magari uno se può se vuole farlo passo passo può interrompere fare le prove e vedere poi come ho fatto nel video ritorniamo nel post e vediamo che adesso c'è i tag per i post quindi dico che ne so auto news e questi sono del singolo post per la categoria non lo so sempre auto categorie adesso sto inventando e li salviamo ok altra cosa ad esempio i tag non li voglio mettere in fondo configuriamo l'ordine e gli dico guarda mettiamolo in cima va e salviamo così adesso purtroppo la view è solo per quando li inserisco qui non lo posso ordinare perché li legge a livello codice perché se andiamo a vedere post settings qui troviamo tutti i campi vedete categorie post quindi l'ordine che vedete nel qui è quello che troviamo qua l'ordine invece che vediamo quando inseriamo un nuovo dato è quello che viene stabilito dalla configure view cioè si dico questo quando vado qua vedete il categorie tags e i post l'hanno portati sopra vogliamo modificare questa cosa qua stop la node i s risposti da qui ok mettiamo sopra riavvio node ok f5 ecco che l'ho spostato di sopra la cosa da capire è che questo ordinamento qui viene salvato nel database quindi se per caso io cancello il database questa struttura qui ce l'ho perché è a livello codice cioè è salvata proprio nel codice l'ordinamento lo perdo perché è salvato nel database ora altra cosa che magari possiamo mettere all'immagine cover image come vedete ci sono vari tipi di campo io voglio mettere l'image cover image cover image è singolo file vogliamo fare una gallery sarà stato gallery file multipli gli possiamo anche dire che tipo di file quindi solo immagini campo obbligatorio campo privato vuol dire che non viene esposto nell'api campo unico vuol dire che c'è solo quello in tutta la collection non in tutto il database un po' che cosa ci può essere meta meta non li mettiamo comunque di base per fare una pagina di un blog post questi sono i campi questo se voglio inserire un'immagine upload adesso faccio così faccio uno screenshot vediamo ok e selezioni salvo ok adesso quando salvate lo stato di questo di questa riga diciamo questo post è in draft in bozza vuol dire che non viene esposto nell'api se andiamo a fare una chiamata API post allora l'indirizzo è questo che abbiamo impostato slash per controllare le rotte basta che andate a vedere la vostra collection config routes e poi il tipo di chiamata io voglio fare un get di tutto quindi farò slash post forbidden perché non ha permessi quindi o si fa l'autenticazione che mi sembra è con il token JWT oppure adesso per demo facciamo con l'accesso pubblico quello che dicevo prima era ok o diamo l'accesso a tutto oppure diamo l'accesso alla singola collection anche con le singole azioni tipo quindi il find il create vabbè diamogli il tutto va tanto adesso per demo mi raccomando però se per caso state in produzione ha i permessi che mettete qua quindi se adesso rifaccio la chiamata mi da array vuoto array vuoto perché io non l'ho pubblicato ecco sì non l'ho non è uno stato pubblicato quindi dico pubblica riproviamo la chiamata e adesso mi da l'array i campi sono gli stessi che ho stabilito io quindi titolo metatitolo description queste sono la componente multipla infatti mi da un array stessa storia per la categoria e queste sono quelle la dynamic zone infatti ha una sintassi un po' diversa ma mette l'ordinamento in base a come ho scelto io quindi id1 perché questo è il primo blocco adesso non vorrei una castroneria ma tanto questo è il secondo blocco no come non detto ho detto una boiata l'ordine in cui come l'ordine in cui compagno è l'ordine che ho scelto l'id e l'id di creazione scusate l'errore cover image e da tutto l'indirizzo questo qui se andiamo a fare andiamo a prendere l'indirizzo adesso va bene prendiamo questo ok però mi inizia a perdere colpi con lo sharing ok ora questa è la thumbnail poi ci dovrebbe essere anche sia la versione large medium comunque vi da l'indirizzo completo partendo dall'url insomma o l'ip che decidete voi quindi questi sono tutti i dati queste sono api rest adesso non ho il discorso per graphql anche perché l'autographql ancora devo controllare un po' ok di base questo sarà diciamo la nostra il nostro database che viene costruito e possiamo decidere ecco se come aggiungere i campi eccetera fare più di una tipologia solitamente per fare un sito più che altro un blog possiamo fare o tutte pagine post quindi anche le stesse pagine classiche possono essere di questa tipologia oppure pagine post e pagine normali chiamiamola pagine page come gestire il routing quindi gli indirizzi eccetera dipende un po' dal frontend c'è chi magari lo fa accablato in un'altra collection c'è chi fa la collection single type routing quella che dicevo prima ok io metto solo un campo ho scritto url anzi adesso ovviamente vabbè mettono un campo multiplo non sono sbagliato adesso lo vuole per farsi un campo se no non me lo fa salvare url vabbè adesso come in general link finish e qui gli dico aggiungimi un componente esistente che si ripete list finish salvo quindi io per fare il routing o lo faccio completamente manuale magari oppure presa la lista questa qui magari diciamo delle collection mi costruisco tutto il routing prendendo la lista e magari leggendo il canonical oppure la url key se voglio fare la versione manuale ecco io prendo la lista e qui ci metto tutti i link che voglio sì sicuramente serve anche l'altro campo per dire l'id della pagina eccetera sono vari modi ora non esiste secondo me il metodo migliore esiste quello più adeguato in base al tipo di progetto con l'headless è un po' così perché ti dà libertà nel nel database quindi l'implementazione anche front end varia un po' comunque ecco come vi dicevo prima le collection single type non avete delle righe come se fosse una tabella ma è una sola riga di una tabella quindi se io riclicco faccio vedere post dalla tabella single type vi dà già come se stesse nel dettaglio cioè questa pagina qua se io questa per esempio la pubblico vedete qui eccolo routing config get andiamo a fare una chiamata forbidden perché vi devo dare le autorizzazioni save in questo caso non è un array ma è un singolo elemento se prendiamo il post è un array questo qui così vuol dire che è un array routing è un singolo elemento dell'array sì alla fine uno mi può dire va bene faccio una collection e prendo il primo elemento sinceramente dipende può magari anche per organizzazione perché poi magari nel database vengono salvati in modo diverso il motivo preciso non lo so ecco con questa modalità noi abbiamo abbastanza libertà nel creare diciamo un database che può essere sì per un sito ma anche per un'applicazione nelle demo che fa vedere nel sito di strapi c'è per esempio l'organizzazione dei ristoranti con i camerieri mi sembra diciamo che le implementazioni sono le più svariate e andiamo a vedere un attimo nella demo sì mi sembra skeleton del blog del website ecco per dire la pagina più o meno è la stessa ora altre cose magari nel dettaglio se vogliamo vedere vi faccio vedere l'utilizzo con il discorso del docker cioè ad oggi anzi adesso lanciate il comando se invece vogliamo lasciarlo in background quindi col docker compose app in modo tale che se chiudo il terminale continua a girare lo stesso io ho fatto questa cosa qua ho aggiunto il comando con una variabile e gli dico nel comando lanciami npm run develop che è questo comando qua questo qua quindi quando faccio adesso vi faccio vedere con l'app così si vede tutto il log e lui lancia il server vabbè questo funziona se io dico meno di così è è stato lanciato il comando e è in background normalmente chi lavora in nojs o chi fa il frontend lo scrive npm run develop e poi lo deve lasciare attivo questa cosa in background la può fare se fa diciamo un giochino con il comando screen che ti fa eseguire le cose in background con docker la semplifico in questo modo quindi se io adesso vado qua applicazione funziona e è in background se vogliamo vedere lo status docker ps questo è l'altro di esempio docker logs ce l'ho un altro attivo strapi demo e mi vede il log questo è il log del container se faccio ad esempio cambio va a vedere che ho cambiato pagina l'altra cosa comoda ad esempio del docker è che io posso prevedere un provisioning cioè uno schema per cui do questa questa macchina chiamiamo macchina questa configurazione a tutto il team devono solo configurare le persone devono solo configurare la parte di environment del proprio computer e questa parte qui lanciando il comando crea tutta la configurazione magari per il database per installare alcune dipendenze fare la procedura perché magari nella procedura di installazione ok l'npm install ma la configurazione dell'end file eccetera ora è passata più o meno quasi un'ora quindi non vi volevo annoiare di più magari in un altro evento eccetera quando riesco a capire meglio con la documentazione come personalizzare possiamo vedere le personalizzazioni lato API cioè capire come modificare i risultati dell'API o personalizzare vari i vari comportamenti e niente io vi ringrazio adesso lascio questa alla fine possiamo interrompere la registrazione Sandro grazie grazie Giuseppe certo certo adesso interrompo la registrazione e passiamo alle domande grazie grazie grazie